Alle soglie dell'estate l'obiettivo di tutti è quello di rimettersi in forma e perdere peso. Per un fisico più snello e sodio bisogna principalmente avere delle buone abitudini, come una dieta equilibrata più sana, eliminando o riducendo degli alimenti, praticando dello sport o comunque del movimento. La cosa da ricordare è che l'unico modo per dimagrire è introdurre con la dieta meno calorie rispetto a quelle che si consumano. Oltre a modificare e migliorare lo stile di vita, è possibile ricorrere all'utilizzo di rimedi naturali o degli integratori, che danno un senso di sazietà se assunti prima dei pasti con abbondante d'acqua. Inoltre, pur non essendo dei farmaci, hanno un potere ipoglicemizzante, riducono l'assorbimento di grassi e carboidrati ed attivano il metabolismo. Importante è anche drenare l'organismo, perché parte del peso è presente sotto forma di fluidi e tossine accumulate che determinano ritenzione idrica e cellulite. Pere molta acqua ed assumere rimedi naturali che attivano gli emontori favoriscono l'eliminazione di questi inestetismi ed aiutano non soltanto a superare la prova costume, ma anche a sentirsi meglio. Ricordiamo sempre che l'uso di integratori non sostituisce una dieta o uno stile di vita sano. Grazie per la visione!